Il mio cliente ha mandato un certificato medico che gli impedisce di comparire, questo è quanto? Ho mandato un certificato medico ieri sera al Comune. Tramite PEC? Sì signora, la propria PEC è la PEC del Comune. Quanti giorni di malattia si sa? Che lo sappia sono 5 se ricordo bene perché io il certificato l'ho visto al volo, perché ovviamente poi ho dato immediata disposizione che venisse mandato. Per quanto riguarda invece le questioni legali, ha detto che ha fatto un prelievo al Consiglio di Stato? Una richiesta di prelievo al Consiglio di Stato per la trattazione della causa e domani dovremmo avere la causa al TAR, ma si chiederà la trattazione con il merito. Per quanto riguarda invece il manifesto, ha sentito che il sindaco e la giunta si sono sentiti offesi? Io del manifesto ho saputo 4 ore dopo che era stato affisso, non avevo la più pallida conoscenza del manifesto, le assicuro che se avessi avuto notizia di un manifesto l'avrei fatto redigere quantomeno in altra forma. Non parliamo della sostanza, io non entro nel merito, poi sarà in sede giudiziale, vedremo cosa dobbiamo fare.